È arrivato Gianni Amelio al Bobbio Film Festival a presentare a Mamet, il suo film che fotografa Gli ultimi mesi di vita di Bettino Craxi, interpretato da Pierfrancesco Favino e che trascorre nella sua villa ad Amamet, in esilio. È l'agonia di un partito, è l'agonia di un uomo che ha portato questo partito alla dissoluzione. In qualche modo è un avvicinarsi alla morte, è quasi un suicidio, nel senso che si parla di una persona negli ultimi 6-7 mesi della propria vita, con dei malanni fortissimi, è una battaglia che lui fa con violenza, con un ego smisurato, con un orgoglio forse degno di cause migliori, comunque la fa sulla propria pelle. Una specie di lotta impari col destino. Ultima sera del Bobbio Film Festival in attesa delle premiazioni e delle proiezioni dei cortometraggi realizzati durante i progetti di Fare Cinema, quelli di Marco Bellocchio, se posso permettermi, quello di Gianni Amelio, Passatempo, e quello di Giorgio Diritti, Zombie.